Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è lo speciale Pasqua, quindi spero che vi piacerà. L'anno scorso non sono riuscita a registrare, perché se vi ricordate bene, a Pasqua, due giorni prima di Pasqua, mi è morta neve, quindi l'ho passata in realtà a piangere, però quest'anno è diverso, quindi ho detto faccio lo speciale Pasqua. Poi se riesco faccio pure lo speciale compleanno che è tra una settimana, però quella è un'altra storia, pure perché mi sto invecchiando e quindi lasciamo perdere. Allora, adesso vi faccio vedere se c'è stamattina per colazione. C'è praticamente l'uovo, io non ci rinuncio mai, posso pure avere 50 anni, però avrò sempre l'uovo di Pasqua, il giorno di Pasqua. Poi praticamente si sta il cuore che ho fatto io, e chiaramente pure l'aranciata, qualcosa da avere ci serve. Vediamo di prendere appunto la sorpresa. A me del cioccolato in realtà non me ne ho mai fregato niente, ma mi piace di più la sorpresa. La voglio pure aprire. Sì, io il giorno di Pasqua praticamente soffetto dei bambini. Mi prendo un coltello. Ah, sì, questo praticamente si mette così. Sì, vediamo. A volte al contrario. Ma come si mette? Cioè praticamente mi sto perdendo, ecco. Cioè praticamente mi sto perdendo, ecco. Adesso provo il mio cuore. Vediamo come è venuto. Buono. Adesso che ho finito di fare colazione, mi trucco, perché oggi è Pasqua, di solito io non mi trucco mai, però nelle occasioni speciali mi trucco. Quindi ho preso i trucchi e mi trucco un pochettino. Ormai la cucina si è trasformato in un punto, diciamo, di... di bellezza estetica, perché voi non lo vedete, però di là c'è mia madre, c'è l'altra parte del tavolo che si sta facendo le unghie. Come vi avevo già detto, la mia famiglia non vuole apparire, quindi è giusto così. Spero che l'ho voluto soltanto precisare, che non sono l'unica che si sta facendo bella in questo giorno di Pasqua. Ragazzi, come potete vedere, ho finito di truccarmi. Questa è la tavola. Siamo solo in cinque, perché ovviamente siamo in zona rossa, quindi non possiamo invitare altre persone. Anche se hanno messo comunque la deroga che si può andare da amici e parenti, però è meglio evitare. Quindi ragazzi, io vi saluto qua. Buona Pasqua a tutti e ci rivediamo al prossimo video.